In questo caso l'ottica si vede, quindi io posso già agire per fare una pulizia della lente. Se avete un lettore cd che non legge più, c'è un tentativo che potete fare con del fai da te e siamo qui in compagnia di Daniele e andiamo a vedere come si fa. Intanto apriamo il nostro coperchio del nostro cd. L'ottica in questo caso è proprio qui sotto, questa è l'ottica. Si mette un po' di alcol sopra, poco, troppo. A volte poi lo asciugo anche con la mano se non ho messo troppo. L'ottica si vede, quindi io posso già agire per fare una pulizia della lente. Questa è la rotellina con la quale il motorino fa girare pian piano, sposta indietro l'ottica per andare a leggere i vari brani sul cd. Do una bella pulita, tutto sulla parte di questa lentina qui. Lo asciugo, addirittura cerco di fare un po' più di peluria per asciugare ancora meglio. Da questa pulizia, se riesce a salvare, si può. È un tentativo che si può fare tranquillamente.